Uno spaventoso incidente nella tarda mattinata di oggi si è verificato nel pieno centro abitato di Riace Marina, lungo la statale 106. Una Mercedes di grossa cilindrata con a bordo due giovani gioiosa ionica, Andrea Parrelli di 34 anni e Agostino Domenico di 30 anni, si è scontrata frontalmente contro un motocarro di colore rosso guidato da Comito Giuseppe, 20 anni, di Riace. Al momento proprio quest'ultimo sembra essere stato colui che ha riportato le ferite più preoccupanti. Sul luogo dell'impatto, prontamente avvisati da alcuni passanti che hanno assistito alla drammatica scena, sono immediatamente arrivate due ambulanze, mentre nella vicina Caoloni è stato fatto atterrare un elicottero per trasportare d'urgenza Comito Giuseppe all'ospedale di Locri. Per gli altri due uomini rimasti coinvolti nell'incidente fortunatamente non ci sarebbero state gravi conseguenze, ma soltanto qualche contusione e lievi ferite. L'impatto è stato violentissimo, tanto da far temere il peggio e testimoni che hanno assistito all'incidente. Le cause sono ancora tutte da chiarire. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli agenti di polizia municipale per cogiovare nelle operazioni e regolare il traffico. Il tratto di strada è rimasto interdetto alla circolazione per consentire le operazioni di soccorso e per permettere la messa in sicurezza del manto stradale, che dopo l'incidente è risultato colmo di detriti e vetri infrantumi.